Sei creativo? Sei un giovane tra i 18 e i 35 anni? Ami la moda e ami metterti in gioco? Questa è la tua occasione! Crea la tua visione del biker di strategia. Disegnalo. Spiegalo. Potrai vincere fino a 1500 euro e vivere il tuo momento da protagonista. You are on Strategia 2015. Il tuo talento in azione. Grazie per la visione!